Arrivi a una certa età e ti fai la fatidica domanda Ma io che cosa ho lasciato, cosa lascerò se scomparissi domani a coloro che mi hanno voluto bene, i miei figli, i nipoti, i futuri Che cosa succede? Cosa succederà? Si dimenticheranno di me? Questa è una domanda importantissima e credo che ogni persona che arriva a una certa età si fa, almeno fra quelli diciamo che non sono bovini si fanno questa domanda e dicono, forse è meglio se lascio qualcosina A me è successo quando ho raggiunto l'età di 36 anni, perché? Perché a 36 anni era morto uno dei miei nonni Sto parlando di ormai quasi 70 anni fa, pensate Quasi 70 anni fa era morto un mio nonno E quindi quello che mi sono chiesto quando sono arrivati a 36 anni è Potrei morire anch'io, se muoio domani non si ricordano nulla di me, non lasciano nulla di scritto Perché magari io di mio nonno avrei preferito aver qualcosina, trovato qualcosina di scritto E io ho raccolto le mie testimonianze ovviamente, anche se non avevo testimonianze dirette Anche le persone di paese mi dicevano qualcosina di questo nonno che io non avevo mai conosciuto Che era morto tantissimi anni prima che mi nascessi E soprattutto mi dicevano, ma che bell'uomo che era tuo nonno Mi dicevano, come a dire, e te invece da dove sei uscito, sei un po' diverso E ho preso dall'altro nonno, che però era biondo, con gli occhi azzurri Non ho preso quella parte lì, ho preso il naso Quindi ho preso in meglio da entrambe le parti, diciamo la verità Quindi posso ritenermi molto soddisfatto E però l'altro nonno ha avuto il tempo di raccontarmi tante cose che ha vissuto Tante esperienze, ho imparato tantissimo a lui, perché? Perché mi ha donato la sua esperienza Cosa dell'altro nonno non ha potuto fare Perché sono sicuro che se fosse arrivato almeno a 70-75 anni Avrei ereditato le sue fungaie, per dirne una Perché era uno che aveva un rapporto molto viscerale con la natura, capite? Un rapporto viscerale, sentiva proprio la natura Sentiva questa idea di... Non solo faceva il contadino Questo è morto a 36 anni Ma conosceva bene il bosco Mentre l'altro aveva fatto una scuola Per imparare a diventare lo scienziato del paese Perché a quei tempi non è che serviva tanto Fece una scuola per corrispondenza e diventò lo scienziato del paese Quello accomodava le cose e si rompevano Perché ai tempi stranamente le cose si riaccomodavano E anche lì io andavo nel suo laboratorio E immaginate un bambino che entra nel laboratorio Come entrare nel regno delle meraviglie Perché vedeva un sacco di scatole con tanti oggetti Ovviamente qualcosina mi dava anche da aggeggiare le calamite Mi ha insegnato i principi elettrici Grazie a lui probabilmente ho costruito un impianto fotovoltaico Che mi sta ancora dando energia Quindi ha quelle conoscenze Mi ha spiegato le gidi om Andavo a scuola e dicevo le gidi om Non lo capite Mio nonno me l'ha spiegato lui Capite? È fantastico E anche lui aveva fatto a malapena elementari Stiamo parlando di un operaio Che aveva fatto a malapena elementari Solo che avevano una conoscenza Una capacità che oggi ce le scordiamo Manualità soprattutto Manualità Già i nonni di ora Quelli più giovani che hanno la 60-70 anni Non c'è proprio paragone A livello di Proprio anche dal punto di vista spirituale Non c'è paragone Sono molto peggiori Noi saremo ancora peggiori di loro E quelli dopo Ma è una cosa incredibile se ci pensate Come manualità Come capacità di fare Io sto cercando di recuperare quelle conoscenze Che ne ho fatto tesoro E anche di lasciare un po' di testimonianza Perché quando sono arrivato a 36 anni Ho scritto Le Rimite la Faggeta Anche grazie all'incontro provvidenziale con Fulgenzio Che comunque è stato anche lui un mentore importante E mi ha dato questa opportunità di scambiare dei pensieri Quei pensieri poi sono rimasti Come mio nonno Quello che ha fatto la scuola per corrispondenza Ha lasciato anche lui delle pubblicazioni riguardo a quel periodo là Che hanno vissuto quella generazione lì di ferro Che purtroppo hanno dovuto vivere il periodo più tragico della storia No? Lo sapete Non importa che ve lo dica Ecco Ha lasciato le testimonianze scritte Di quei racconti Di cosa ha vissuto in quei luoghi orribili E comunque lì qualcosa avrei avuto di testimonianza Ma la date molto dopo Perché sono due passari anni Perché si ripescasse quella memoria E io anch'io O nel mio piccolo ho detto Devo scrivere quello che penso Quello che ho capito fino a quel punto lì della vita Solo è un'evoluzione continua Tante cose che ho scritto allora Magari ora le ho Piano piano sviluppate Ancora meglio E per questo continuo a scrivere Piano piano Quello che io penso rimarrà Insomma i miei posti Le sono sicuro che potranno Attingere Non solo dalla mia figura Sperando che io sia ancora vivo Ma se muoio Loro possono comunque attingere Tante cose che ho scritto e pubblicato Dicevo Questo comunque Alcune cose le aveva intuite E io lo lasciate lì per loro Anche per voi se volete Perché Lo sapete L'evolismo lo do gratis L'evolismo è Il compimento Di una serie di studi Sulla natura umana Che ho fatto E L'eremita e la faggeta Invece è un libro molto personale Per quello non lo posso dare gratis Perché è personale Capite ci sono fatti miei E se lo compra qualcuno Se lo legge Mi fa piacere Speriamo non vada a raccontare La mia vita Perché lì c'è veramente tutto Anche il mio intimo E anche quello di Fulgenza Ci siamo scambiati I nostri pensieri più profondi Sulla natura umana Su tutto ciò che Ci rende esseri umani E questa è una cosa importantissima Non possiamo vivere Facendo Gli schiavi In attesa della pensione Senza lasciare Nuna i nostri nipoti Senza parlare mai con loro Portando soltanto soldi a casa Dalla mattina alla sera Così In maniera vuota Bovina E poi Lasciare ai nostri nipoti Solo delle domande Che non hanno risposta Chi era mio nonno? Chi era? Quella generazione lì Aveva un livello spirituale Nettamente superiore A quello di oggi Siamo sempre scesi Allora Dica a voi Che magari Non avete mai pubblicato niente Lasciato un pensiero I nipoti Fate fatica a badarli Davanti alla televisione Vabbè Diciamo il caso peggiore Ecco Lasciategli qualcosa Di quello che voi pensate Della vita Di quello che avete capito Della vita Io ho capito questo Una cosa Una cosa Gliela lasciate a questi ragazzi E almeno loro Si fanno un'idea E potrebbero Ringraziarvi un giorno Perché Accorcerebbero Insomma La loro ricerca personale Se la faranno Se continuano a vivere Facendosi le domande Cosa che purtroppo Sta scomparendo Perché oggi si vive Intrattenendoci E non facendosi Più delle domande Ci si tende a intrattenere A vivere in maniera Non solo bovina Perché Voi pensate ai bovini Loro stanno lì Gli danno da mangiare Gli danno Tutti loro gli serve Però non hanno la libertà Più o meno Il futuro potrebbe essere Più o meno Quella roba lì Questo è il problema Però anche loro Fra loro magari Qualcosina si possono Insegnare Invece quando sarete separati Ognuno nel suo A vivere in maniera Chiusa Perché questo è il futuro Il futuro è che quando Io non frequento Metropolitane Per carità Però Mi è capitato Che volta dipende Nella metropolitana Per visitare delle città Milano Roma È capitato Certo luoghi e giornate Orribili per me Però Salendo vedevo Che non c'era nulla Cioè non esisteva La relazione interpersonale Tutti chiusi Ovviamente con i cellulari Ancora Questo è ancora Un muro maggiore Però anche se le persone Avevano il cellulare in mano Guardavano nel vuoto Capite Non c'era più nulla La relazione scompariva L'atomizzazione della società Per fermare L'atomizzazione della società Bisogna che i nonni Raccontino Che non hanno capito Della vita ai nipoti Questa è la cosa più importante Quindi Prima di morire Guardate Lasciare qualcosa scritto Con i vostri pensieri Non importa Se siete grandi scrittori Io non sono certo Un grande scrittore Forse non sono neanche Fra i peggiori Visto quello che viene scritto Va detto la verità Che vengono scritte cose Veramente scadenti Ultimamente Io sono basito A alcune pubblicazioni Ecco In confronto io Ho scritto capolavori Però Non voglio montarmi la testa Però Qualunque pensiero Ha un valore Capite Lasciategli questo pensiero A nipoti Mentre il sole Sta appena appena tramontando Se mi accuccio Guardate Passo alla ombra Io vi saluto E vi dico Lasciate qualcosa Ai nipoti Per favore Iscriviti al canale youtube Chiocciolo all'eremita È gratis E attiva la campanellina Per non perdere Nessun video Ciao